What's on? What's on? Speciale TOSM. What's on? Benvenuti, sono Giulio Milan, Onda Quadre, Politecnico di Torino. Siamo in compagnia di Mario Costamagna, Marketing Telecom Italia, clienti top. Signor Costamagna, in che modo il progetto di monitoraggio dei consumi energetici attuato da Telecom può beneficiare della presenza al TOSM? A quali aziende vi rivolgete? L'offerta Telecom Italia Green è indirizzata primariamente alle aziende top del gruppo Telecom Italia ma anche alle aziende di più piccole dimensioni, cioè quelle aziende che hanno consumi energetici al di sopra dei 100.000 euro l'anno, all'incirca. L'offerta indirizza le problematiche legate al monitoraggio dei consumi, al loro contenimento grazie alla capacità attuativa degli apparati che la piattaforma gestisce e poi vengono indirizzate tutte le problematiche legate agli aspetti economici delle forniture energetiche perché i gigawattora prima o poi diventano degli euro e quindi è necessario poter supportare le analisi e le attività fatte per l'efficienza energetica con la sigla di contratti di energia particolarmente vantaggiosi e coerenti ai profili di consumo e poi alla verifica, a chiusura del cerchio, di come le bollette vengono ad essere prodotte e quindi pagate. Grazie. Per la vostra ricerca su T-Green vi siete avvalsi di strutture universitarie oppure vi avverrete in partnership future? L'offerta T-Green è un'offerta che fa forte leva sulla capacità dei Competence Center che supportano l'offerta. Cellecom Italia offrirà ai propri clienti un supporto da remoto da parte di un Competence Center dedicato a tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta e nell'ambito del Competence Center invia di definizione un accordo proprio col Politecnico di Torino con i professori Fracastoro e Filippi per mettere a punto quell'insieme di competenze che sono fondamentali le competenze di energetica e le competenze legate agli edifici e agli involucri che insieme all'informatica sono la parte vincente di questo tipo di soluzione. E quindi di quale figure professionali avrete bisogno per le vostre ricerche e come soprattutto reclutate i neolaureati per i vostri uffici? Sempre con riferimento all'offerta T-Green l'idea che abbiamo è quella di valorizzare i Competence Center e di creare le risorse e le competenze attingendo a questo bacino di competenze. Quali competenze? Tipicamente le competenze di energetica, le competenze che ci aiutano a capire la logica con la quale i consumi vanno ad evolversi e vanno ad essere efficientati. Competenze che indirizzano le problematiche legate alla capacità degli involucri, quindi degli edifici, di poter supportare le azioni di efficienza o di poter essere adeguati alle esigenze di efficienza. Il collante di tutte queste competenze è evidente che sia nell'Information Technology perché tutte queste iniziative poi verranno ad atterrare su una piattaforma T-Green, erogata il Data Center di Telecom Italia che permetterà ai clienti non soltanto di vedere i risultati ma di agire direttamente sugli apparati che possono fare poi le efficienze.